Un nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a nord-est. Un incendio è divampato nella notte in un rustico adiacente a un'abitazione in via Borgo-Pedrosi a Martignacco-Udine. Le fiamme si sono propagate fino a raggiungere due autovetture parcheggiate all'esterno della struttura adibita a deposito. Dalle due di questa notte i vigili del fuoco del comando di Udine sono stati impegnati con più squadre giunte dalla sede centrale di Udine dal distaccamento volontario di San Daniele nelle operazioni di spegnimento del rogo, di messa in sicurezza dell'edificio e di smassamento. Le operazioni hanno avuto luogo per tutta la notte e parte della mattinata. L'incendio, le cui cause sono in fase di accertamento, non ha coinvolto persone. A tutta velocità per evitare il coprifuoco, viaggia con un tasso tre volte il consentito. È successo allo scoccare delle 22 di ieri quando una patuglia della radiomobile di Aurisina, che stava effettuando un posto di controllo l'ex valico di Farnetti a Morupino, si è vista arrivare da Opicina un'auto a velocità sostenuta con gli abbaglianti sparati. La conducente, una cittadina slovena di 42 anni, si è giustificata dicendo che stava cercando di rientrare a casa in tempo prima del coprifuoco. La sua voce era tremolante e le frasi un po' sconnesse. Sottoposta all'etilometro, ha riportato un tasso alcolico tre volte il consentito. I carabinieri della radiomobile hanno proceduto al ritiro immediato della patente e alla denuncia per guida in stato di ebrezza. Ieri sera la Polizia di Stato ha deferito alla locale Procura della Repubblica per furto un cittadino tunisino del 1983. È stato sorpreso da un addetto del supermercato Inns in via Diaz a Trieste a nascondere alcuni generi alimentari all'interno dei pantaloni. Sul posto è stata fatta intervenire una volante che lo ha identificato, riscontrandone anche la presenza irregolare sul territorio nazionale. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato denunciato. Sempre ieri il personale della locale Polizia Ferroviaria ha denunciato per esistenza e oltraggia pubblico ufficiale una triestina del 1997. Un primo carico di 7.800 dosi di vaccino Moderna per il Veneto scortate dai carabinieri è arrivato nel pomeriggio di ieri nel sito di stoccaggio dell'Ulstres Serenissima all'ospedale dell'Angelo di Mestre tramite Corriere Espresso. I 780 flaconcini contenenti 10 dosi ciascuno al loro interno sono stati custoditi nel freezer dedicato che si trova nella farmacia ospedaliera dell'Angelo. La compagnia aerea Ryanair ha tagliato tutti i collegamenti aerei in 11 aeroporti italiani per un periodo di 10 settimane a partire dal lunedì prossimo 18 gennaio fino al 27 marzo in altri scali grandi sui quali operava come Napoli e Venezia ha ridimensionato drasticamente i voli. L'ho spiegato Marco Consalvo di Del Trieste Airport, uno di quelli in cui la compagnia irlandese ha tagliato tutti i collegamenti. Ovviamente la misura è stata presa in seguito al peggioramento della situazione pandemica e alle conseguenti misure restrittive adottate che consentono ai passeggeri di volare soltanto per fondate e improcrastinabili ragioni. Una situazione che secondo Consalvo si protrarrà fino a marzo. Le notizie dall'Istria, Fiume e Dalmazia Quarta sessione in videoconferenza del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Pirano in vista del Consiglio Comunale di domani. Domani infatti è l'ordine del giorno e il punto cruciale sarà la proposta del bilancio di previsione della Municipalità per l'anno 2021. In prima lettura, i consiglieri della CAN ne hanno discusso a lungo e in modo esaustivo confrontandosi costruttivamente in vari ambiti. In questi giorni il bilancio è stato esaminato anche dalla Commissione per le questioni della nazionalità italiana. Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori sulla ex strada costiera che da isola porta a Capodistria. Gli operai della dita CPK hanno rimosso le transenne che imponevano al traffico senso unico lungo l'arteria che costeggia il campeggio e hanno dato via libera ciclisti e pedoni che ora possono tornare a fare attività fisica sul lungomare. In particolare è stata migliorata la pista ciclabile rendendola più sicura ma sono stati anche posizionati i lampioni dell'illuminazione. Buone energie e tante piccole felicità. È in edicola il nuovo almaracco Barbanera. Consigli di buon vivere per la vita in casa, la famiglia, il benessere, l'orto, il giardino e il balcone seguendo la luna e le stagioni. A Manacco Barbanera 2021, in edicola con due preziosi regali, l'oroscopo 2021 e il calendario la luna in casa per un nuovo prezioso anno di felicità. Sul Friuli Venezia Giulia dal pomeriggio in serata cielo in genere poco nuvoloso. Vento da nord, da moderato a sostenuto, possibile qualche raffica più forte, specie in quota. Domani cielo sereno o poco nuvoloso sulla costa Soffiera Borino, sulle zone occidentali sarà possibile maggiore nuvolosità al mattino. Passiamo al Veneto, in prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso, salvo sui settori montani, specie su quelle dolomitici, in particolare su quelli più settentrionali, dove sarà presente della nuvolosità fino a parte del pomeriggio. Domani al mattino parzialmente nuvoloso per tratti di nuvolosità irregolare, in seguito sereno o poco nuvoloso, temperature in pianure minime in aumento, senza notevoli variazioni altrove, salvo risultare in calo nelle valli massime stazionarie o in locale diminuzione, in generale calo in quota. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e di ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.